Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale dopo diverso tempo torniamo a trattare un tema suggerito, ovvero a discutere e a parlare di qualcosa che mi è stato chiesto da qualcuno di voi che gentilmente seguite il mio canale. In questo caso parliamo di kernel, famoso kernel oserei dire perché soprattutto nel mondo Linux se ne parla spesso, si sente spesso questo termine ed ecco che allora proprio perché se ne sente parlare spesso uno di voi mi ha chiesto ma in fin dei conti non puoi fare un video per spiegare un po' più in dettaglio esattamente che cosa sia questo kernel, che cos'è, in cosa consiste in fin dei conti, se ne parla spesso ma vabbè. E voilà, che allora prendo spunto appunto da questa richiesta di uno di voi per parlare un attimino di kernel. Dunque il kernel è una cosa molto tecnica in quanto tale, come potrete immaginare, serve a far funzionare il nostro sistema Ubuntu o anche altri tipi di distribuzioni Linux, quindi potrete immaginare che è come sia dotato di una certa complessità tecnica. Quindi come sempre nel nostro canale evitiamo accuratamente di entrare in questi tecnicismi e resteremo a un livello piuttosto alto, però giusto per piazzare, come si suol dire, il kernel al suo posto nell'ambito del nostro sistema operativo. Ecco appunto, quindi qui nel primo punto della mia scaletta dico che se ne parla spesso, come ho appena detto, ma non è poi così scontato che sia chiaro per tutti che cosa sia questo kernel. Allora, partiamo dalla parola in quanto tale, quindi manco a dirlo l'ennesima parola in inglese, un termine inglese che letteralmente tradotto vuol dire nucleo, nocciolo, cuore di un sistema, di un qualcosa, proprio kernel il nocciolo. E non è stato chiamato casualmente in questo modo perché il kernel è proprio il cuore di un sistema operativo per computer. È il nocciolo che fa funzionare tutto, che sta dietro le quinte, o sotto il cofano, come preferite, e fa funzionare il tutto. Quello che noi oggi diamo per scontato, funzionamento di un pc, insomma, si compra il pc, lo si accende e via che lo si usa, in realtà sempre dietro le quinte ci sta il kernel a fare il suo lavoro, il suo indispensabile lavoro. Ecco qua, allora, è il kernel che cosa fa in sostanza, detto proprio in parole povere e in poche parole. È lui che si occupa di interagire con l'hardware, ovvero con le componenti fisiche del nostro pc, e che ci permette anche di eseguire i nostri programmi, insomma, quelli che abbiamo installato sul nostro sistema, suddividendo e regolando l'uso della capacità di elaborazione del nostro pc fra di loro, cioè fra i vari programmi. Ovviamente i pc odierni possono eseguire contemporaneamente più programmi, anzi molti programmi. E però la CPU, ovvero il processore, ha una certa capacità non infinita, e quindi ecco che il kernel si occupa di regolare, di dare a un programma più potenza della CPU, piuttosto che un altro, magari quando stiamo usando un programma attivamente verrà favorito rispetto ad altri che stanno dietro le quinte, un attimo, eccetera, eccetera. Quindi è il kernel che si occupa di tutto ciò. E anche appunto, come ho detto, si occupa di interagire con l'hardware. La banale operazione di innestare una pennetta USB in una delle porte USB del vostro pc scatena un modulo del kernel che dice, ah ecco, qualcuno ha innestato una pennetta USB, ecco che devo aprire, che so, il file manager, ecco, e il fatto di riconoscere che quella pennetta USB che noi con i nostri occhi vediamo come tale, riconosciamo come tale, per farla riconoscere al pc ci vuole un modulino da qualche parte del kernel che dica, ah ecco, questa è una penna USB tal dei tale, con questa capacità e queste caratteristiche. Tutto ciò è compito del kernel, che quindi è importantissimo, anzi essenziale. Senza kernel niente sistema operativo, questa è l'equazione. E il kernel, che cos'è? Non è un chip, non è un circuito integrato, è software. Possiamo, diciamo così, paragonarlo a un enorme programmone, ecco, un programma che sta dietro le quinte che fa funzionare tutto il resto, è un'enorme quantità di software il kernel. Si sta parlando, rendetevi conto, di decine di milioni di righe di codici. Ecco, il kernel più avanza, almeno il tipo di kernel che viene usato in Linux, chiamato monolitico, più si modernizza, più si attualizza, più riconosce parti hardware diverse, più si ingrossa. Ed ecco che appunto si parla, oggi come oggi, di decine di milioni di righe di codici. Non so esattamente quante, un po' di qualche anno fa, non tanti anni fa, si parla di una ventina di milioni di righe, forse siamo arrivati a 30, non lo so di più. Comunque, le statistiche sono in questo ordine di grandezza. Ecco, è importante anche dire che, benché, almeno la sensazione mia, credo anche la realtà delle cose, è che si parla spesso di kernel, si associa a questo termine, al mondo Linux. Questo soprattutto perché Linux è il kernel, cioè Linux non è, come dire, il sistema operativo nella sua interezza, come lo intendiamo noi usando, per esempio qua, Unity di Ubuntu. Questo è il sistema operativo completo, comprensivo dell'interfaccia grafica, dei programmi, di tutto quanto vogliamo. Questo è il sistema operativo nella sua interezza. Linux in quanto tale è, tra virgolette, solo il kernel, ovvero proprio il nucleo, il cuore del sistema, sul quale vengono appoggiati appunto i vari vestiti grafici. Che io chiamo così vestiti grafici, nel senso che sappiamo benissimo, almeno chi ha avuto che fare, almeno un pochino, con Linux sa che ci sono diversi ambienti grafici per Linux, che io appunto chiamo vestiti grafici, quindi il kernel Linux viene vestito con un'interfaccia grafica diversa, secondo dei gusti e delle scelte del singolo utilizzatore. Diversamente da altri prodotti come Windows o Mac OS X che si presentano praticamente con una sola faccia, che poi possa essere modificata qua e là con delle aggiunte, non sostanzialmente comunque. Quindi Windows e Mac OS X sono riconoscibili, diciamo così, all'istante. Se si vede una schermata, uno screenshot, un PC in un negozio esposto, si dice, ecco, quello ha installato, montato Windows, quello è un Mac, eccetera, eccetera. Mentre con Linux, ecco, fossero esposte un PC con installato Linux, dipende, dipende da quale interfaccia grafica, da quale vestito grafico è stato scelto di applicarli al suo kernel. Ecco, quindi, forse un po' anche per questo motivo, che con Linux è più frequente che si parli di kernel, proprio perché Linux è in quanto tale kernel, mentre Windows e Mac OS X sono visti, almeno dal punto di vista dell'utilizzatore finale, come dei pezzi monolitici, cioè l'interfaccia grafica è Windows, l'interfaccia grafica è Mac OS X, senza pensare o probabilmente molto spesso senza rendersi conto che in realtà anche Windows e Mac OS X hanno il loro kernel, perché tutti i sistemi operativi funzionano con un kernel dietro le quinte. Ecco, e proprio questa è un po' forse la differenza che per i nuovi utilizzatori forse lascia un attimino persi o sconcertati, è che Linux non è riconoscibile per la sua veste grafica univocamente. Può avere più vesti grafiche, GNOME, KDE, Unity, XFCE, LXDE e altre ancora, sono numerose queste interfacce grafiche che appunto funzionano comunque tutte con, dietro le quinte, il kernel Linux. E questo è magari per gli utenti nuovi soprattutto, lascia magari un po' sconcertati perché abituati a sistemi diciamo così monolitici nel senso tutti d'un pezzo come Windows e Mac OS X. Dunque quindi, riassumendo, il kernel è una parte software, per grande che sia è comunque software, ci sta indietro degli sviluppatori che continuano ad aggiornare, migliorare, correggere questo software che permette di interagire con il nostro hardware, cioè con la nostra parte fisica del PC per farlo funzionare come si deve e per far funzionare il nostro sistema operativo. E specificatamente per Linux il kernel è nato nel 1991, allorquando un certo signor Linus Torvalds ha rilasciato in rete appunto una primissima, primissimissimissima versione di kernel Linux di non so quante righe di codici, sicuramente non milioni di righe, probabilmente migliaia. La primissima versione è stata rilasciata in rete nel lontano 91, invitando, proprio con un mail, Linus Torvalds ha invitato altri studenti di allora, insomma, o altri sviluppatori interessati a collaborare allo sviluppo di questo kernel per ampliarlo e migliorarlo, per dargli una mano a lui ad ampliare e migliorare questo progetto. E da allora è stata, diciamo, tutta quasi avalanga la cosa, no? È iniziata così, quasi per caso, quasi che Linus Torvalds probabilmente non si aspettava nemmeno che qualcuno rispondesse con così tanto entusiasmo, ma in poco tempo ha preso piede a questo progetto e non si è mai fermato fino ad oggi, anzi, sta continuando a una velocità strabiliante e potete vedere qui sullo sfondo, tra l'altro, che ho messo, non a caso, la pagina principale del sito ufficiale del progetto kernel di Linux, www.kernel.org e vedete che proprio oggi, fresco fresco di stampa, è stato rilasciato il kernel 3.9, dico oggi perché, eccola qua la data, oggi è il 29 aprile, ecco qua, 29 aprile, fresco fresco, ancora caldo da forno, il kernel 3.9 e avanti così si starà già lavorando, il kernel, a questo punto non so se verrà chiamato 4.0, 3.9 punto qualcosa, non lo so, 3.10 probabilmente, non si passa al numero 4 come versione principale, ma sicuramente si continuerà con 3.10, 3.11 eccetera eccetera, penso io, vedremo il prossimo kernel come si chiamerà, comunque ecco, dal 1991 in avanti il kernel, lo sviluppo del kernel non si è mai fermato e si è sempre migliorato nel tempo, ecco, anche gli elenco proprio per pura informazione senza entrare ovviamente nei dettagli tecnici che sono anche difficili per chiunque non sia nell'ambito dello sviluppo di kernel Linux, potete sempre andare poi a interessarvi per conto vostro, come sempre io vi lascio dei riferimenti tra Wikipedia e il sito principale del kernel Linux, potete andare a interessarvi appunto per conto vostro, capire cosa sono le caratteristiche, le differenze tra un tipo di kernel e l'altro, comunque in sostanza per i maggiori, i principali sistemi operativi basati su Linux, Windows e Mac OS X si parla di kernel di tipo monolitico per Linux così come per Mac OS X con varie sfumature e invece un kernel di tipo ibrido per Windows, ecco, qui appunto non approfondisco ulteriormente perché poi le cose si complicano in fretta, comunque sappiate che giusto, ve li ho elencati giusto per mostrarvi che qualsiasi sistema operativo in realtà ha il suo kernel Windows compreso, anche se non se ne parla praticamente mai. Ecco, io ho praticamente finito questa breve panoramica sul kernel Linux, quindi sul nucleo di ogni sistema operativo, non solo di Linux e spero che di aver soddisfatto la curiosità di chi mi ha chiesto questo approfondimento, con questo ho concluso, un saluto e alla prossima, ciao ciao!